Il Regno Unito si ferma per l'ultimo saluto alla sua regina. Nell'abbazia di Westminster si sono tenuti i funerali solenni di Elisabetta II, scomparsa l'8 settembre all'età di 96 anni. Alla cerimonia preseduta dal decano di Westminster e dall'arcivescovo di Canterbury hanno partecipato oltre 500 tra capi di Stato, leader stranieri e dignitari di tutto il mondo, tra cui il capo dello Stato Sergio Mattarella, il presidente americano Joe Biden, la premier britannica Liz Truss e gli ex premier Boris Johnson, David Cameron, John Major, Tony Blair e Gordon Brown. A Hyde Park i Maxi Schermi hanno trasmesso in diretta la cerimonia funebre, consentendo a migliaia di persone di seguire l'addio alla sovrana più longeva della storia britannica. Dopo la liturgia, Londra si è fermata per due minuti di silenzio. L'ultima processione ha attraversato la città, dall'abbazia di Westminster all'arco di Wellington, salutando Buckingham Palace. La regina Elisabetta è stata quindi trasferita al castello di Windsor per la sepoltura nella cappella di St. George. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.